bene grazie lorenzo grazie a tutti di essere presenti a questo ennesimo webinar organizzato da aias direi che dovreste sentirmi il microfono acceso si sentiamo e vediamo perfetto allora l'argomento di oggi è non solo covid qualità dell'aria per riaprire in sicurezza parliamo di questo argomento evidentemente perché la qualità dell'aria tutta diciamo un tratto nell'ultimo anno 14 anno anno diciamo gli ultimi 12 mesi è diventato per noi un argomento per tutti noi un argomento molto importante alcuni di noi già da tanto tempo ci lavorano sopra perché è una tematica che ritenevamo importante indipendentemente dal covid il covid è uno dei tanti aspetti come vedremo che può andare a incidere su questo argomento in particolare laddove la qualità dell'aria è composta da tanti aspetti da tante sfaccettature chiaramente il covid essendo un virus è una tematica rientra nella tematica dell'aspetto biologico oggi noi su questo ci concentreremo ajas su di cui sono presidente da un anno e quasi e mezzo è l'associazione che si che riunisce tutti i tecnici o vorrebbe riunire tutti i tecnici che si occupano di sicurezza salute sostenibilità nei luoghi di vita di lavoro è un'associazione che è nata nel 75 quindi ormai abbiamo più di 45 anni come associazione è nata per volontà di un gruppo di professionisti che già all'epoca prima ancora quindi della 626 videro che c'era una necessità di diffondere la cultura della salute sicurezza e sostenibilità nei luoghi di vita di lavoro prima era centrata fondamentalmente sull'aspetto salute sicurezza ma ben presto abbiamo aggiunto la sostenibilità e l'ambiente sulle tematiche perché ormai la visione è diciamo un tutt'uno ajas come associazione riunisce circa 2000 soci in tutta italia per fortuna e per lavoro e per effetto del lavoro di tante persone questa associazione sta tornando a crescere è costituita da un network di entità la prima è ajas che è la storica diciamo poi nacque più di venti anni fa ajas academy che è una società posseduta in maggioranza ormai dalla ajas stessa è una società che si occupa di formazione formazione nel campo appunto della safety security health and environment dopo questa società nacque ajas cert che è un ente una società che si occupa di certificare le competenze ai sensi della legge 4 quindi certificare le competenze nell'ambito non gestiti dal dagli ordini e quindi tutte quelle attività come l'hs manager responsabile del servizio prevenzione portazione il coordinatore eccetera possono trovare una loro certificazione su schemi o proprietario schemi diciamo standard uni o iso e ajas cert su questi schemi proprietari o generalisti diciamo così sono permette diciamo la certificazione volontaria e quindi ci attesta le competenze attraverso esami svolti da docenti che hanno da esaminatori più che docenti da esaminatori che hanno evidentemente delle competenze per poter rilasciare questa certificazione oltre a questo già da parecchi anni in ajas abbiamo un club della prevenzione nelle grandi organizzazioni che riunisce gli hse manager di grandi entità in italia pubbliche private che abbiano più di 300 dipendenti questa realtà unica nel suo genere perché perché mentre ajas di questi duemila soci ne ha circa così a spanne il 50 per cento che sono professionisti esterni alle aziende il 50 per cento che sono dipendenti a spp rs pp o hsi manager delle aziende il club delle grandi organizzazioni si riunisce per cercare da un impulso ulteriore come grandi organizzazioni che hanno anche a loro nel centro delle loro attività la l'aspetto della sicurezza della sicurezza della salute e dell'ambiente della sostenibilità ambientale questi hse manager si ritrovano insieme per fare lobbying positiva chiaramente per confrontarsi e per essere tra di loro di supporto nella visione che molte volte diversa fra quella che una grande organizzazione è una piccola media impresa italiana un minimo di storia noi sempre si parla di sicurezza nei posti lavori in italia fondamentalmente dal in epoca fascista diciamo nel 1930 con il codice rocco che si occupò anche dell'aspetto della sicurezza e sempre con anche sia in codice è anche nel codice civile il subito dopo la guerra negli anni 50 vennero emanati dei decreti che sono rimasti per parecchio tempo in vigore che sono il famoso dpr 547 del 55 il 164 e 303 che regolavano già all'epoca tutte le tematiche relative alla sicurezza con un'impostazione però molto tecnica e di tipo prescrittivo e punitivo dal punto di vista tecnico come ingegnere non posso altro che dire che quelle leggi lì erano già all'epoca molto avanzate anche se l'approccio era come come ho scritto punto di tipo prescrittivo punitivo dicevano come si dovevano fare le cose e bisognava adeguarsi quindi dicevano che so quanto alto doveva essere una protezione per per l'accesso a un a un punto di lavoro in quota e dicevano esattamente la metratura quanto doveva essere il tempo di risposta di un sensore e così via quindi scendevano nel dettaglio queste leggi rimasero fondamentalmente inapplicate perché come vedete dal grafico che vi ho posto qui in questa slide questo è l'andamento degli infortuni in italia in quel periodo come vedete praticamente fino alla crisi economica degli anni 70 l'andamento era rimasto praticamente costante quindi per ben 15 anni dopo la pubblicazione delle norme dopo cominciò a calare l'andamento per tante ragioni fra cui non dobbiamo dimenticarci che negli anni 90 uscirono delle si entrò diciamo tutti in tutti gli effetti a partecipare la comunità europea e le norme europee cominciarono a impostare un approccio che superava l'approccio tecnico punitivo e quindi il 626 del 1994 la 494 per il quantiere del 96 furono emanate come conseguenza appunto di queste nuove norme cambiavano cambiava l'approccio quindi si introduceva il concetto di datore di lavoro di rspp e di spp quindi del servizio prevenzione protezione inteso come un'entità che si doveva costruire all'interno dell'azienda con il medico competente gli rls e che aveva lo scopo di fare la valutazione del rischio ok quindi si cominciava a dire non è importante che tu abbia questo organo fatto così o fatto cos'ha ma devi valutare il rischio e trarne le conseguenze questo chiaramente è stata una vera e propria rivoluzione fino al 2008 quando arrivò il decreto 81 detto anche test unico della sicurezza quindi ormai parecchi anni fa nel 2008 quindi più di 12 anni fa questo test unico della sicurezza che ha fatto un ulteriore passo avanti in questo approccio diciamo di tipo partecipativo e diciamo voluto dal legislatore per indicare che la sicurezza è una delle caratteristiche del della vita lavorativa e della vita di tutti noi nella società si è passati quindi da un concetto che vedeva il tecnico della sicurezza spesso chiamato in modo anche dispersativo quello della sicurezza intesa cioè quello che se ne occupa lui basta diciamo non ci interessa a noi che siamo in produzione in manutenzione all'ufficio acquisti o che siamo i direttori di questo ente e c'è quello della sicurezza chiedi a lui se passati all'RSPP fino ad oggi a arrivare finalmente l'HS manager in cui quindi le problematiche relative alla sicurezza salute e ambiente fanno parte della gestione manageriale di qualsiasi ordine o ente associazione e azienda diciamo di qualsiasi dimensione deve avere questo approccio diciamo differente però diciamo negli ultimi cinque anni se andiamo a vedere e prendiamo come indicatore principale l'andamento degli infortuni e soprattutto quelli con esito mortale non vediamo un grandissimo miglioramento dal 2015 al 2019 prendiamo 2019 come ultimo anno normale diciamo così il numero di infortuni più o meno è costante purtroppo anche il numero di incidenti mortali è veramente ancora altissimo parliamo di tre morti al giorno cosa in italia cosa che è assolutamente non accettabile vero che in questo parametro sono presenti anche gli infortuni nitinere che quindi diciamo possono diciamo in qualche modo uscire dalla normale logica diciamo così degli infortuni sul posto di lavoro sono legati a recarsi al tornare a casa dal posto di lavoro comunque sia sono legati al fatto che noi stiamo lavorando in europa l'italia non è messa malissimo d'accordo siamo sotto alla media europea ma se prendiamo ad esempio siamo abbiamo meno infortuni ogni 100 mila occupati della francia tanto per dire che tipicamente è uno dei nostri benchmark se prendiamo la germania come nostro benchmark vediamo che sono messi meglio di noi d'accordo pur avendo una struttura produttiva molto simile alla nostra quindi possiamo fare qualcosa ma il punto è come fare qualcosa e allora come associazione che si occupa di queste tematiche ed è la ragione per cui siamo qui oggi una delle ragioni per cui siamo qui oggi è che ormai la mondo dell'hse quindi della sicurezza salute e sostenibilità si muove su due binari paralleli che scusatemi il termine poco ingegneristico sono paralleli ma anche convergenti perché devono arrivare allo stesso obiettivo il primo binario è necessario assolutamente garantire le condizioni di sicurezza salute e sostenibilità quindi dobbiamo fare in modo diciamo di intervenire per ridurre ancora quegli infortuni quelli incidenti quelle problematiche legate alla non sostenibilità e quindi tutte queste problematiche come arrivare a questo lavorando sulla cultura perché non possiamo pensare che sia un problema esclusivamente di tipo tecnico ci sono anche gli aspetti tecnici ma fondamentalmente dobbiamo lavorare sulla cultura di tutte le persone dal più alto in grado all'interno di un'azienda al neoassunto tutti quanti debbono avere e condividere alcuni aspetti che mettono la sicurezza l'ambiente e la salute al centro e quindi dobbiamo lavorare come dicevo sull'approccio culturale e per far questo e facendo questo arriviamo al secondo binario cioè si arriva da un lato a garantire che a lavorare sul sul minimo d'accordo che non ci siano più infortuni che non ci siano più malattie che non ci siano più incidenti e problematiche di tipo di sostenibilità ma sull'altro binario è quello di arrivare a migliorare e a dar la garanzia del benessere a tutti i lavoratori a tutti i presenti quindi dato che si arriva a una visione diciamo olistica nel senso che comprende tutti gli aspetti del business e della persona quindi si parte dai preliminari non infortuni non malattie non inquinamento per arrivare poi alla necessità di condividere tutti e tutti gli scopi e quindi i valori delle aziende dell'organizzazione appunto per arrivare al benessere della persona quindi la centralità della persona e al benessere e questo è un obiettivo che tra l'altro bisogna anche dire che già il legislatore nella legge 81 aveva ben identificato perché diceva deve il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi deve porre rimedio deve fare tutto quello che deve fare ma deve garantire il benessere dei dipendenti e di chi è presente in azienda e qui arriviamo all'argomento diciamo di oggi perché per garantire il benessere quindi come naturale evoluzione dell'approccio della salute sicurezza e sostenibilità dobbiamo evidentemente occuparci della qualità dell'aria perché la qualità dell'aria è uno dei termini sicuramente che incidono sul benessere delle persone qualità dell'aria inteso in senso esteso da aspetti fisici chimici e biologici e il webinar di oggi si concentra appunto sugli aspetti biologici d'accordo l'aspetto biologico della qualità dell'aria come incidere in qualche modo sulla misura della qualità dell'aria anche se vedremo che esiste una difficoltà sull'aspetto biologico perché è difficile da misurare ma non voglio diciamo svelare l'assassino prima del diciamo della fine del film e dopo quindi anche il concetto di integrazione dell'aspetto biologico nella qualità dell'aria al fine della quella della garanzia del benessere questi sono gli argomenti che affrontiamo oggi come diceva prima lorenzo un invito a partecipare alla nostra vita associativa come associazione abbiamo avviato un gruppo di lavoro uno dei gruppi tecnici di lavoro della nostra associazione che si occupa proprio di questa tematica perché la qualità dell'aria è importantissima per l'aspetto biologico perché in questo momento molto importante per la guerra per la guerra che stiamo facendo contro questo virus che ci sta in qualche modo tenendo ancora in scacco e sicuramente la qualità dell'aria negli ambienti indoor è uno dei parametri fondamentali ma la qualità dell'aria necessaria anche per garantire il benessere delle persone anche se questo virus non ci fosse più spero di non aver corso troppo velocemente ho usato i miei 15 minuti direi in modo abbastanza preciso e vi invito tutti a partecipare alla vita dell'associazione ad associarvi se non siete soci e a partecipare ai gruppi di lavoro e lascio la parola alla dottoressa elena sasdelli che a chi diciamo a cui lascio la parola e che si presenterà diciamo e ci racconterà appunto la gli aspetti centrali del concetto di biologia rispetto al nostro benessere Elena a te la parola buonasera a tutti condivido un attimo la mia presentazione intanto presento a me stessa mi chiamo Elena sasdelli sono una microbiologa ho lavorato per molti anni come consulente di arpa miglia romagna nel nel settore microbiologia appunto per quanto riguarda gli inquinanti indoor legati alle matrice aria acqua superfici anche nei laboratori centri di ricerca insomma diciamo ambienti comunque confinati e dunque per quanto riguarda la questione legata al concetto biologico dell'aria diciamo che diventa una tematica abbastanza moderna per sotto vari aspetti innanzitutto è una tematica che è stata ignorata per molti anni abbiamo delle leggi dei decreti che regolamentano l'inquinamento dell'acqua abbiamo leggi e decreti sul contenimento del rischio legionella ma purtroppo non abbiamo dei delle leggi e delle normative di riferimento specifiche per quanto riguarda l'aria dal punto di vista microbico e questo purtroppo è una grossa lacuna nel nostro sistema sia per quanto concerne il discorso di salvaguardia della salute delle delle persone sia per quanto appunto concerne la eh programmazione di interventi di miglioramento o salubrità certificazione della salubrità di uno stabile teniamo presente che noi eh passiamo eh l'ottanta o novanta per cento della nostra vita in ambiente indoor quindi diciamo che il l'importanza di sapere la composizione di dell'aria che respiriamo che ormai praticamente non è più eh per la maggior parte della nostra vita un'aria esterna diciamo naturale per quanto possa essere inquinata o meno è comunque un pool di sostanze sia chimiche che biologiche che si mescolano insieme e un po' anche si danno un equilibrio tra di loro l'aria indoor invece è una condizione diciamo eh artificiale artificiata e artificiosa significa che siamo noi che vediamo eh le prerogative eh di eh diciamo benessere legate quindi al alla qualità e la qualità dell'aria è difficile da monitorare ed è difficile da eh misurare. Parliamo un attimo di rischio biologico e parliamo della condizione eh nella quale in un certo ambito di vita o di lavoro la presenza di un microorganismo pericoloso e la sussistenza di un'esposizione ad esso possono comportare l'insorgenza di un danno per la salute. Rischio biologico che per tantissimo tempo forse troppo fino a probabilmente l'esplosione della della pandemia attuale è stato largamente sottostimato e per la maggior parte delle volte ignorato perché è un rischio che non si vede eh è tutto legato a un ambiente microscopico che ad occhio nudo non è visibile e di conseguenza anche per una questione come diceva eh l'ingegner Santi nell'introduzione culturale eh spesso eh vengono ignorate delle delle questioni legate eh appunto a questioni culturali culturali che non si vedono e quindi che passano in secondo piano perché sembrano meno importanti di altre ma purtroppo come ben sappiamo adesso eh ne siamo tutti consapevoli perché riguarda tutti nessuno escluso da vicino quello che non vediamo può essere molto pericoloso e eh nella organizzazione o nella gestione comunque di strutture dove si recano persone eh durante l'attività lavorativa questo problema non può più essere minimamente ignorato. Chi sono gli agenti biologici? Gli agenti biologici eh come da decreto 81 eh si parla di agente biologico quando parliamo di qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato o anche parti di esso o prodotti metabolici anche una cultura cellulare o un endoparassito umano che potrebbe provocare allergie e o intossicazioni. gli agenti biologici hanno eh tantissime dimensioni tantissime forme e tantissime misure come potete vedere da quest'immagine eh partendo da eh sinistra la banda azzurra identifica diciamo quelle quei quegli agenti biologici visibili solo al microscopio elettronico che è quello diciamo con la massima potenza che abbiamo che utilizziamo per osservare per esempio vedete la grandezza di un atomo di carbonio rispetto alla grandezza del virus dell'HIV o rispetto alla grandezza dei cianobatteri o rispetto alla grandezza delle degli eritrociti le cellule del sangue. Andando più avanti la banda arancione identifica le grandezze all'interno del microscopio eh ottico quindi possiamo vedere flagellati, alghe, lieviti e e poi ci sono anche eh agenti microbici visibili a occhio nudo come l'atenia che è il verme solitario così chiamato che raggiunge anche lunghezze di metri nonostante sia fatto comunque da una singola cellula che si riproduce per scissione binaria e aggiunge un metamero ogni volta che si riproduce fino a come vedete questa specie di eh sciarpa eh quella è la lunghezza di un'atenia evoluta, matura insomma. Quindi moltissime dimensioni, moltissime forme, moltissime funzioni proprio diverse perché eh gli agenti biologici non sono solamente dannosi, non sono solamente qualcosa che provoca delle malattie e contro i quali noi non possiamo difenderci. Noi siamo fatti per la maggior parte, per tanta parte di noi da agenti microbici. Basti pensare che all'interno del nostro intestino i i batteri buoni che svolgono una azione ehm eh vitale per il nostro intestino e sono un chilo e me in in alcune persone, scusate, in alcune persone anche eh due chili di batteri per quanto riguarda la la invece per esempio la nostra epidermide abbiamo quattrocento, cinquecento grammi di batteri sull'epidermide quindi eh quando ci riferiamo ad agenti biologici non pensiamo che siano solamente dei nemici per noi. Alcuni ci aiutano proprio a vivere senza essi non potremmo vivere eh per quanto riguarda la l'azione diciamo normale eh ci riferiamo ad agenti biologici quando parliamo di batteri, di virus, di parassiti e di funghi. Vedete un esempio di batteri che sono molto diversi tra di loro. I batteri hanno vita autonoma eh vivono e si riproducono autonomamente e si muovono anche nell'ambiente. Un esempio è scherichia coli che è un batterio che abbiamo tutti all'interno del nostro corpo ma in condizioni di eh modificazione ambientale potrebbe dar luogo a eh tossi infezioni alimentari, a delle patologie eh legate a una sua crescita eh oltre la sua eh naturale quantità. Ehm parliamo di virus eh come rotavirus, come coronavirus, adesso ovviamente si parla solo di quello ma eh ce ne sono anche tanti altri. E parliamo di di parassiti come l'Atenia, quella che vi ho indicato poco fa e anche parliamo di funghi perché i funghi, detti anche muffe, appartengono alla stessa categoria e ce li ritroviamo dappertutto negli ambienti, basta che ci sia un minimo di umidità e il fungo eh può essere molto pericoloso. E partiamo un po' dai virus, vediamoli un attimo così per capire di che cosa stiamo parlando e eh iniziamo subito dicendo che i virus sono elementi genetici o a DNA o a o a RNA ma non sono dei veri eh diciamo esseri viventi. C'è una diatriba in in atto da moltissimi anni tra biologia e chimica legata all'origine e alla classificazione di questi elementi genetici perché in realtà di per sé non sono vitali. Mh è come se fossero un materiale genetico a volte circondato da un pericapside o da un vacuolo all'interno c'è questi filamenti che vedete è il materiale genetico ma non ci sono organelli per quanto possano avere svariate dimensioni e svariate forme eh non hanno al loro interno gli organelli che permettono di eh riprodursi né di crescere autonomamente e neanche di muoversi. Di conseguenza a differenza dei batteri come abbiamo anticipato poco prima hanno bisogno di un ospite esterno hanno bisogno di andare in un ambiente dove si attacchino a una cellula ospite che al suo interno ha i meccanismi di riproduzione e li fruttano inseriscono il loro materiale genetico all'interno della cellula ospite sfruttano i meccanismi di ehm di crescita e riproduzione si riproducono un miliardo, un milione, migliaia di volte fino a che provocano la lisi cellulare e quindi la fuoriuscita di tutto questo materiale genetico comunicato. Qui vedete tanti virus eh come eh l'herpes virus che è uno tra i più diciamo grandi eh di dimensioni fino al qui di più in basso vedete il virus dengue che è molto piccolo eh e molto molto piccolo è per esempio il virus dell'epatite A. SARS come lo vedete qui è diciamo di media dimensione abbastanza grande e a quanto riguarda eh SARS-CoV-2 in particolare ha una eh caratteristica particolare ovvero eh che è una particella costituita da quattro eh proteine e ha una capacità di riconoscere i recettori di membrana molto particolare perché eh come vedete da questa immagine eh il nucleo capside che è questa parte concentrica all'interno forma il nucleo genetico e intorno invece abbiamo un pericapside e le proteine di membrana. Ogni proteina eh della spiccola quindi della parte esterna della membrana ha delle sporgenze precise che formano queste specie di C tutte intorno e questo è il motivo per cui si chiama coronavirus perché ha questa specie di corona intorno e queste proteine con questa forma particolare si attaccano in maniera molto selettiva a dei recettori di membrana questa che vedete questa qui è una sezione di membrana di una cellula ospite e queste proteine si attaccano al recettore di membrana in una maniera eh ultra cifica una volta avvenuto il riconoscimento entra in materiale genetico si attacca al ciclo di replicazione all'interno della cellula e fuoriescono poi eh tanti eh tante moltiplicazioni del materiale genetico. Quindi ricapitolando il virus tramite questa cosa qui eh cercano la cellula target eh avviene il riconoscimento cellulare il virus entra attraverso la cicolazione all'interno della cellula sfrutta i meccanismi di riproduzione produce svariate moltissime migliaia milioni copie di se stesso e poi attraverso un meccanismo di esocitosi crea delle vescicole che portano poi il materiale genetico a uscire dalla cellula per infettare molte altre cellule. Questi meccanismi possono essere di due tipi fondamentali uno porta alla morte cellulare significa che la cellula ospite una volta che è stata sfruttata per produrre tutto questo materiale genetico viene uccisa cioè viene rotta la membrana si rompe e poi riescono tutte le copie di cellule. Oppure la seconda via è l'esocitosi quindi la formazione di vescicole con il mantenimento integro della cellula ospitata. Per quanto riguarda il rischio biologico quindi indoor eh non solo virus come dicevamo nell'introduzione ma eh prendiamo in in esame che ci sono tanti altri eh ambiti che possono essere sottoposti a tutela e controllo. Per quanto riguarda per esempio l'acqua destinata al consumo umano lo sapete tutti benissimo eh essa può essere eh contaminata da batteri virus o parassiti. Però abbiamo un decreto legge che è decreto legge 31 del 2001 che è dettagliatamente eh specifico per quanto riguarda i parametri limite di questi eh microrganismi all'interno dell'acqua per essere poi destinata al consumo umano. Ehm all'interno del del controllo microbico dell'acqua non dimentichiamo anche legionella e come vi dicevo nell'introduzione in breve eh anche legionella è normata. Abbiamo anche qui un eh decreto nazionale e eh linea guida regionale regionali che ci indirizzano bene eh sulla gestione e il controllo del rischio legionellosi. Torniamo all'argomento di oggi che quindi è l'area e all'interno degli edifici quindi non abbiamo solamente eh sostanze chimiche ma ci sono tanti agenti microbici eh che vengono trasportati dai movimenti dell'aria sotto forma di bioaerosol. Si legano a polvere, a particelle liquide o altri contaminanti naturalmente presenti e eh possono essere un rischio per chi occupa l'ambiente indoor di esposizione per la inalatoria, per contatto con le superfici o di oggetti contaminati oppure per ingestione. Qui vedete sempre a livello eh di dimensioni eh quanto il per esempio la grandezza del polline eh sia diversa dalle clamidospore, dalle ife dei funghi, dagli aspergilli, dagli estafilococchi per arrivare ai virus. eh che cosa succede? Sono i dati epidemiologici che circa il 20% degli individui sono sensibilizzati agli allergeni. L'esposizione agli allergeni indoor può indurre lo sviluppo della sensibilizzazione perché produciamo anticorpi igie specifici. Questo significa che il nostro corpo scatena una sintomatologia respiratoria allergica. Le patologie respiratorie e allergiche sono tra le più diffuse nella popolazione italiana e hanno un elevato impatto socio-economico. E tali patologie sono tra quelle maggiormente prevenibili limitando quindi i fattori di rischio. Quali sono i fattori di rischio? E gli allergeni indoor attualmente noti sono blatte, acari, muffe tra i quali anche aspergilli, penicilli e alternaria e senza dimenticare mammiferi quindi gatti, cani e roditori che portano sulla loro epidermide comunque delle sostanze che a volte sono cataboliti che se vengono ispirate o ingerite possono dar luogo a un fenomeno allergico. Aspergillus di cui si sente abbastanza parlare, chi è? Aspergillus è una muffa, lo vedete qui nelle sue varie specie, quella in alto è fumigatus, hanno proprio forme e caratteristiche diverse. Questo centrale è Aspergillus niger e questo in basso è Aspergillus flavus, si riconoscono dopo coltura al microscopio ottico. Provocano delle Aspergillus a carico dell'apparato respiratorio, hanno effetti allergizzanti e infettivi e la propagazione dei conidi che sono questi puntini che vedete fuori dalla testa dell'ifa del fungo e avviene attraverso l'aria quindi è una dispersione aria dipendente. Nell'aria troviamo anche uno dei principali abitanti diciamo indoor, lo streptococco che vedete qui nell'immagine, ha un diametro da 0,5 a 1,25 micron, trattasi di anaerobio facoltativo, significa che è capace di vivere anche in assenza di ossigeno, non è sporigeno ed è immobile. La specie agalactie in gravidanza può provocare sepsi, infezioni maligie urinarie o ammonionite che può essere letale per il feto. Lo streptococco del gruppo A provoca fascite necrotizzante, febbre aromatica acuta, infezioni primarie alla gola e anche scarlattina e viene trasmesso tramite la produzione di aerosol dagli starnuti della persona infetta, senza dimenticare streptococcus pneumonie che provoca polmonite lobare, detta così proprio perché interessa solamente un lobo polmonare, otite, bronchite, congiuntiviti, sinusite, endocardite fino alla forma sistemica della meningite. Che cosa possiamo fare noi nell'aria? L'aria si può monitorare, assolutamente sì. Possiamo contare i batteri psictrofili a 22 gradi, quindi gli indicatori di contaminazione microbica ambientale. Possiamo contare la carica mesofila a 37 gradi che ci indica l'eventuale contaminazione di origine umana o animale. Possiamo monitorare la carica fungina, che è correlata a elevati tassi di umilità e polverosità dell'ambiente e ridotta qualità dell'aria. Come possiamo monitorarli questi componenti dell'aria? Si possono monitorare in molti modi, con un campionamento attivo, con il campionamento passivo, col campionamento delle superfici. Più tipologie di campioni facciamo, più possiamo avere un quadro più descrittivo della situazione in cui ci troviamo, perché ovviamente le particelle dell'aria possono essere di varie dimensioni e forme e possono veicolare al loro interno varie tipologie di microrganismi. Queste particelle però, come tutto ciò che è sulla Terra, è soggetto a gravità. A seconda della loro dimensione, soprattutto del diametro e della composizione, la gravità in forma più o meno rapida provoca la caduta di queste cellule sulle superfici e quindi facendo il campionamento delle superfici riusciamo ad ottenere delle informazioni molto importanti sulla qualità dell'aria, in particolare dal punto di vista microbico. Anche perché con il campionamento passivo che viene fatto attraverso degli strumenti che veicolano in maniera proprio attiva, forzata, veicolano l'aria all'interno di piastre sul quale l'aria impatta e questa piastra poi viene portata in lavoratorio e analizzata. È un campionamento un po' stressante, i microrganismi sono agenti vivi e quindi vanno campionati con un certo criterio. Il campionamento delle superfici o passivo dell'aria permette di stressare il meno possibile gli agenti vivi all'interno di queste polveri e questi aerosolvi o dispersi e di conseguenza di avere un campione più significativo. Abbiamo, dicevamo prima, non abbiamo una normativa standard che ci dia delle indicazioni precise, però abbiamo dei valori di riferimento europei per quanto riguarda inquinamento biologico legato ai batteri e quindi in base alla quantità di batteri che vengono trovati nel campionamento attivo possiamo classificare il nostro ambiente indoor con diciamo un livello di qualità che va da molto bassa a bassa, intermedia, alta o molto alta a seconda di quanti batteri sono stati trovati e come vedete qui dalla tabella è una tabella del 1993. Quindi già nel 1993 si analizzava la questione ma da allora ancora non siamo riusciti ad arrivare a qualcosa di più unificato e disponibile per tutti. Stessa cosa per l'inquinamento microbico da miceti che sono i funghi e le muffe, anche qui riusciamo a fare una classificazione degli ambienti o in casa o ambienti non industriali ma sempre confinati. riusciamo a tipizzare quindi gli ambienti come ad altissimo rischio, a rischio, a medio o a basso rischio anche tramite l'utilizzo del limite IMA che è un limite che si utilizza per il campionamento passivo con le piastre, sempre per il campionamento dell'aria. E con questo vi ringrazio e termino la mia presentazione e ripasso la parola all'ingegner Santi penso che... Grazie Elena. ...avanti. Grazie Elena. Mi sembra che la scaletta preveda adesso la parola all'Antonella Santoro, l'ottoressa Antonella Santoro di Nuva, perché ci parlerà appunto di un metodo, di una possibilità legata alle nuove tecnologie per la misurazione della qualità dell'aria. Esatto, buongiorno a tutti. Io adesso condivido una breve presentazione. Abbiamo assistito all'introduzione del tema della qualità dell'aria dal punto di vista dell'inquinamento biologico, adesso invece ci occupiamo del tema dal punto di vista, diciamo, del monitoraggio chimico-fisico. Innanzitutto, le esperienze che sto per condividere sono state condotte utilizzando una tecnologia automatica di monitoraggio continuo della qualità dell'aria che prevede il posizionamento di punti di misura all'interno degli ambienti al chiuso che si vogliono monitorare, questi punti di misura, questi dispositivi raccolgono i dati e li portano su una piattaforma dove vengono elaborati e rappresentati in modo da essere analizzati dalle figure professionali preposte all'interno dell'azienda. Non siamo estranei al tema che sta salendo agli onori della cronaca in questi mesi, che è quello della salubrità dell'aria in un'epoca Covid, perché l'Istituto Superiore di Sanità ha rilasciato durante l'anno scorso diverse revisioni di linee guida con le indicazioni ad interim per la gestione degli ambienti al chiuso e nelle linee guida che sono state distribuite dall'Istituto Superiore di Sanità sono state date delle indicazioni precise rispetto alla necessità, all'urgenza di ricambiare l'aria all'interno degli ambienti chiusi e quindi immettere aria nuova dall'esterno dell'edificio in modo che possano essere abbattuti e diluiti tutti gli inquinanti che ci sono al chiuso, compresa la presenza dei virus. In secondo luogo lo stesso Istituto Superiore di Sanità propone di fare un monitoraggio continuo dei parametri fondamentali, i parametri microclimatici con cui tutti abbiamo più confidenza, l'anidia carbonica che indica in qualche modo se il ricambio dell'aria è sufficiente, efficace all'interno degli ambienti chiusi, il monitoraggio dei composti organici volatili che sono comunque un indice del livello di inquinamento chimico che si raggiunge all'interno di un ambiente e vi spiego fra qualche slide perché è importante, è il monitoraggio delle polveri che un po' indica qual è il livello di efficienza dei pacchetti filtranti che si applicano ai sistemi di ventilazione all'interno degli uffici. La terza indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità sta appunto rispetto alle modalità e ai detergenti da utilizzare nell'operazione di pulizia e di sanificazione. Sembrano delle regole semplici, vi faccio vedere condividendo alcuni dati che abbiamo raccolto l'anno scorso, nel primo semestre dell'anno scorso. In questi grafici vedete confrontati nella parte superiore la concentrazione di composti organici volatili che come ho detto è un indicatore dell'inquinamento chimico comunque della presenza umana, dell'inquinamento generato della presenza umana all'interno di un edificio, di un luogo chiuso e abbiamo confrontato i valori raccolti in un cluster di case e con i valori raccolti in un gruppo di uffici. La linea rossa dei grafici rappresenta la concentrazione del parametro all'interno delle abitazioni, quella azzurra la concentrazione all'interno dei luoghi di lavoro. Nella parte superiore vediamo i composti organici volatili che appunto sono una famiglia di sostanze composti del carbonio, mentre nella parte inferiore vediamo la concentrazione di CO2, l'anidride carbonica che indica qual è il livello di areazione del locale. Una cosa interessante, allora l'asse temporale è gennaio-fine maggio 2020, quindi noi vediamo fino a metà dei grafici, fino a marzo vediamo la vita a cui eravamo abituati prima della pandemia e da marzo in poi vediamo come cambia il comportamento, l'andamento di queste sostanze nei luoghi chiusi con il lockdown. Per quanto riguarda i composti organici volatili, vediamo che fino a marzo l'andamento è più o meno analogo negli uffici e nelle abitazioni, dopo il lockdown si vede come le linee si allontanano, l'andamento è completamente diverso, all'interno delle abitazioni i composti organici volatili aumentano e aumentano progressivamente sempre di più, all'interno degli uffici queste sostanze sono praticamente azzerate. Perché dopo aprile vediamo che nelle abitazioni questi valori sono così alti e molto più alti dei valori che erano stati raggiunti negli uffici. In primo luogo perché nell'abitazione potenzialmente si sviluppano più attività che sono foriere di inquinamento, basti pensare alla cucina che è sicuramente una delle attività che produce più inquinamento indoor, fra tutte quelle che si svolgono all'interno di un'abitazione. In secondo luogo perché nella maggior parte delle abitazioni non ci sono dei sistemi di ventilazione meccanica, la ventilazione naturale è demandata alla possibilità o comunque al comportamento di aprire sostanzialmente le finestre nella maggior parte dei casi e quindi il livello di inquinamento si accumula progressivamente se la ventilazione non diventa adeguata e questo è confermato dall'andamento dell'anide carbonica del grafico sottostante. Come si può vedere, mentre dopo il lockdown la concentrazione di anide carbonica all'interno delle abitazioni, vi ricordo, è la linea rossa è decisamente superiore al livello medio che si era raggiunto precedentemente, a dimostrazione del fatto che la ventilazione appunto era insufficiente. Quali sono invece gli effetti sulla qualità dell'aria causati dalla sanificazione? In questo grafico riportiamo sempre il confronto fra la concentrazione dei composti organici volatili e la concentrazione di anide carbonica. In questo caso nella parte superiore c'è l'andamento dell'anide carbonica dalla mezzanotte del 6 di maggio dell'anno scorso fino a mezzogiorno, quindi circa 12 ore, mentre nella parte inferiore vediamo l'andamento dei composti organici volatili. Questa rilevazione è stata fatta in un luogo di lavoro, in un ufficio. Alle 8 e 35 del mattino entra il dipendente all'interno della stanza dell'ufficio e ha a disposizione una soluzione idroalcolica per la disinfezione e decide di disinfettare il suo piano di lavoro. Come potete vedere si registra il primo picco, il primo innalzamento della concentrazione di composti organici volatili che comunque piano piano si attenua da solo. Circa un'ora e un quarto dopo la stessa persona ripete l'operazione di sanificazione che viene fatta spruzzando su un panno una soluzione idroalcolica che poi viene utilizzato per disinfettare la superficie, il tavolo, la scrivania su cui è appoggiato il pc. Vediamo che il picco questa volta è molto più alto, è molto più alto perché c'è un effetto di accumulo con il trattamento precedente, è molto più alto perché la superficie del tavolo è calda, perché il pc è stato rimasto acceso per più di un'ora. In concomitanza con questo secondo trattamento vengono aperte le finestre, questo è un palazzo con ventilazione naturale e vediamo che sebbene il picco sia registrato sia stato molto alto, con l'apertura delle finestre c'è una rapida discesa della concentrazione di inquinante e sebbene successivamente le finestre rimangono aperte, sebbene successivamente dopo circa un'altra ora e un quarto si ripete per la terza volta lo stesso trattamento, si registra un innalzamento della concentrazione dell'inquinante però si abbatte molto velocemente il picco non raggiunge i livelli del secondo trattamento. Se consideriamo che la maggior parte dei sistemi di ventilazione, utilizza come tracciante per decidere quanto intensamente utilizzare il sistema, utilizza come tracciante l'anidride carbonica, vediamo che nel grafico superiore se fosse esistito in questo ambiente un sistema di ventilazione meccanica e fosse stato comandato dall'anidride carbonica, diciamo che l'andamento dell'anidride carbonica non avrebbe colto nulla del fenomeno invece rappresentato dall'andamento dell'inquinamento chimico e questa è la dimostrazione del perché è importante insieme ai fattori microclimatici monitorare anche un parametro come i composti organici volatili. Diciamo che questa esperienza è legata un po' a quello che stiamo tutti vivendo in seguito alla pandemia, in questo momento però vorrei condividere con voi un'esperienza che invece è stata fatta e iniziata in periodi non sospetti, un'esperienza cominciata addirittura nel 2019 con un progetto di open innovation che Nuva, l'azienda di cui sono amministratore delegato, ha svolto con Eni. Abbiamo risposto ad una chiamata dell'azienda che stava organizzando, che ha organizzato delle attività per la digitalizzazione dei processi della funzione salute all'interno di Eni Corporate e quindi abbiamo risposto appunto a questa chiamata e abbiamo aderito alla richiesta di lavorare su un progetto di innovazione. L'intervento, il progetto è un progetto che dura ancora adesso e ci ha visto lavorare veramente a quattro mani con la funzione di innovazione digitale, con la funzione salute di Eni e ha portato alla definizione degli use case su cui volevamo lavorare, alla pianificazione delle attività che sarebbero seguite nei mesi successivi e all'installazione e la creazione di una rete di sorveglianza ambientale. I compiti sono stati divisi tra il nostro team e quello dell'azienda committente in questo caso. Sono stati individuati 10 ambienti da monitorare e in ogni ambiente sono stati monitorati 20 parametri ambientali, quindi la maggior parte inquinanti chimici e fisici prevalentemente, oltre che temperatura e umidità ovviamente. Tutti i dispositivi, quindi tutti i 10 ambienti erano localizzati all'interno dello stesso edificio che è un edificio costruito negli anni Ottanta. Non è stato necessario fare delle installazioni invasive, nel senso che i dispositivi installati per i punti di misura richiedono semplicemente di essere collegati alla corrente elettrica e di utilizzare insomma un collegamento a internet. Gli ambienti monitorati sono stati prevalentemente uffici, sale, riunioni o laboratori di una ampiezza media diciamo di 10-15 metri quadri. Nei laboratori che sono stati monitorati erano comunque installate tutte le dotazioni come le cappe chimiche per l'aspirazione forzata. I sistemi che abbiamo installato, i sistemi di Nuva, appunto ho detto sono dei dispositivi che monitorano i 20 parametri in continuo e aggiornano i dati sulla piattaforma cloud ogni circa 15 minuti, quindi la granularità dei dati disponibili è estremamente elevata. Quali sono stati i driver che poi hanno portato Eni a voler implementare questo progetto? Sicuramente in primo luogo la volontà di assicurare un maggiore livello di salute e sicurezza per le persone. Infatti ricordo che questo progetto è stato sviluppato con la funzione salute di Eni. La voglia, il desiderio di migliorare la qualità dell'aria e la salubrità rispetto agli ambienti di lavoro, quindi un tema strettamente legato all'igiene occupazionale e non per ultimo si è pensato al confort delle persone perché si è visto, ci sono tanti studi che dimostrano che la produttività e lo stare bene delle persone, il benessere delle persone legato anche a livello di qualità ambientale indoor. I benefici individuati da Eni sono stati diversi. Sicuramente una rete di monitoraggio della qualità dell'aria rende disponibili tantissimi dati che possono essere utilizzati per effettuare delle analisi, per individuare delle problematiche e anche per verificare che le eventuali azioni correttive producano risultati attesi. Senza un monitoraggio continuo questa verifica non è così semplice. Eni ha anche visto nella continuità del monitoraggio un'opportunità per poter integrare le tecniche legacy di misura della qualità ambientale e integrare anche i dati comunque raccolti attraverso le analisi di laboratorio fatte in maniera puntuale, quindi con delle finestre di osservazione molto limitate perché tipicamente le rilevazioni ambientali fatte con altri strumenti durano ore o al massimo giorni e non rappresentano in continuo il livello di inquinamento dell'ambiente. Questo progetto che ho detto dura da più di un anno e continua ha portato ad implementare delle attività che insomma hanno contribuito anche a migliorare la nostra proposta tecnologica perché sono state svolte alcune attività volte a validare l'accuratezza delle misurazioni effettuate e abbiamo anche lavorato per rendere più efficiente il flusso dei dati dalla nostra piattaforma ai sistemi informativi di ENI stessa. Quali sono le evoluzioni, a che conclusioni si è giunte e quali sono le evoluzioni attese di questo progetto che è come ho detto insomma una sperimentazione importante che è durata tanti mesi? Sicuramente c'è la volontà, si sta lavorando per estendere questa esperienza, questa attività a dei nuovi use case. Grazie all'attività fatta con ENI noi abbiamo integrato dei nuovi sensori e sostituito alcuni dei sensori che avevamo. Per esempio avevamo una tecnologia per il calcolo della concentrazione di CO2 negli ambienti chiusi, abbiamo sostituito quella tecnologia con un sensore che misura direttamente la concentrazione di CO2. Abbiamo sostituito il sensore di polveri che prima aveva una misura generica del livello di polveri all'interno di un ambiente chiuso, adesso invece discriminiamo fra PM1, PM2, PM10 e PM10. Poi sono stati aggiunti degli inquinanti nuovi come quindi abbiamo integrato all'interno delle nostre soluzioni un sensore di ozono, un sensore di ossido e di azoto e abbiamo anche introdotto insomma un sensore di CO2. Insieme al miglioramento della rilevazione abbiamo anche sviluppato nuovi analytics in modo da poter trarre quanto più valore possibile dai dati che in questo modo vengono raccolti e analizzati. Un altro ambito di estensione di questo progetto riguarda invece altri ambienti che sono più complessi dal punto di vista del monitoraggio della qualità dell'aria. Sicuramente monitorare la qualità dell'aria in un ufficio è diverso che monitorarlo in un contesto industriale e non è sempre possibile paragonare anche uffici diversi che si trovano in aree geografiche diverse. Pensare di paragonare un ufficio di una palazzina di uffici con un ufficio adiacente ad un impianto industriale oppure un ufficio di Milano con un ufficio di un altro paese che magari ha delle infrastrutture realestate diverse da quelle tipiche italiane sicuramente pone delle sfide e quindi il prosieguo di questo progetto va nella direzione di di espandere gli use case e le attività in questi ambiti. Chiudo con una riflessione. Affrontare il tema della qualità dell'aria è una sfida che da una parte deve tenere sempre come obiettivo quello di migliorare la salute delle persone però è un obiettivo che non può ignorare l'edificio cioè quando ci si occupa della salute delle persone lo si fa guardando all'edificio alle caratteristiche dell'edificio e alle dotazioni dell'edificio. Molto spesso le soluzioni per migliorare il livello di qualità dell'aria indoor possono anche essere banalmente comportamentali però è importante affrontare questo tema avendo per chiaro in mente qual è l'edificio in cui insomma questa attività si sta si sta svolgendo. Grazie. Molte grazie Antonella. Passiamo all'ultima presentazione del dottor Busico che ci parlerà invece di un approccio quindi metodologico per la gestione degli aspetti biologici e di qualità dell'aria nelle aziende Buonasera a tutti. Grazie all'ingegner Santi per l'opportunità e parliamo di quelli che sono dei possibili protocolli di gestione del rischio biologico in ambienti di vita e in ambienti di lavoro e nello specifico andiamo a guardare insieme quelli che sono due macro insiemi il macrosistema dell'aria e il macrosistema dell'acqua. Volevo partire con voi ragionando su quali sono le caratteristiche dare una sorta di definizione di protocolli di gestione e sono dei veri e propri sistemi di gestione spesso integrati tra loro che permettono il raggiungimento di un obiettivo precedentemente concordato attraverso dei processi processi che devono essere ripetibili e misurabili verificabili e determinati nel tempo quindi devono possedere determinate caratteristiche quali sono qual è la il fil rouge la linea di pensiero che regola i protocolli di gestione in campo microbiologico beh alla base dei protocolli di gestione vi è l'idea comune non tanto dell'attestazione di uno stato di fatto di una contingenza quanto la certificazione vera e propria di un processo di continuo miglioramento ecco quindi si ha una sorta di cambio di passo di prospettiva e certificando proprio un processo ricorsivo oggi volevo illustrarvi tre tipologie di protocolli e il protocollo be aware per la gestione del rischio biologico e il protocollo be aware per la gestione della qualità dell'aria di cui la dottoressa santoro ha già ampiamente parlato il protocollo e le free per quanto riguarda la gestione del rischio legionella invece la dottoressa sasdelli accennava nella parte relativa al sistema acqua partiamo da questa esemplificazione del protocollo per la gestione del rischio biologico di be aware e diciamo già graficamente si vede qual è il suo approccio ovvero la divisione in tre macro aree di quello che è un rischio biologico di quello che è un possibile rischio biologico e nello specifico parliamo di rischio biologico generico ovvero di un rischio che è presente negli ambienti di lavoro ma anche negli ambienti di vita e quindi siamo esposti nella nostra vita quotidiana a questa tipologia di rischio parliamo poi di rischio biologico potenziale specifico nel caso invece di un rischio a cui siamo esposti quando siamo durante l'attività lavorativa quindi è qualcosa che in cui possiamo incorrere nello svolgere la nostra pensione o semplicemente essendo presenti all'interno dell'edificio lavorativo ma che nella vita di tutti i giorni nella vita fuori dall'ambito lavorativo difficilmente corriamo infine il rischio biologico deliberato esistono soprattutto realtà industriali in cui intenzionalmente all'interno dei processi si inseriscono degli agenti biologici ecco in questo caso si parla di rischio biologico deliberato quindi si conosce la tipologia di agente biologico introdotta le sue concentrazioni quindi diciamo è più facile la sua valutazione e faccio un esempio per meglio chiarire questa categoria di rischio biologico tutti i processi alimentari in cui ci sono presenti dei reattori a fermentazione sicuramente sono processi in cui è presente un rischio biologico deliberato e soffermandoci su queste due ultime categorie ecco si vede come all'interno di questo protocollo di gestione del rischio biologico a 360 gradi ci sia un primo step di valutazione del rischio vera e propria la proposta di interventi e una rivalutazione del rischio post interventi che dovrebbe portare a un abbattimento di tutti quelli che sono gli indici di rischio precedentemente stimati questa è una procedura ovviamente come si diceva prima che ha carattere ricorsivo quindi viene reiterata nel tempo in modo tale da portare a un processo di continuo miglioramento cosa emerge dall'attuazione di un protocollo di questo tipo beh emergono sicuramente dei piani di campionamento ambientali ma anche dei piani di intervento con delle azioni preventive e correttive non per ultimo dei piani di formazione informazione di tutte le persone potenzialmente esposte al rischio biologico preso in considerazione e infine diciamo quello che è un piano di un piano di audit che rimane fondamentale nella misura in cui la riverifica continua dei protocolli permette appunto la logica del continuo miglioramento. L'altro protocollo che voglio voglio illustrarvi oggi è il protocollo per la qualità dell'aria sempre be aware e anche qui è illustrato la slide graficamente e concede diciamo due passi un primo step che è quello di un assessment sul sito in cui viene fatta una fotografia del sito da prendere in considerazione una negoziazione degli obiettivi col cliente finale quindi una discussione di quelle che sono gli gli step poi necessari al raggiungimento di questi obiettivi e l'installazione di un sistema un sistema che in questo protocollo vede un monitoraggio in continuo ne accennava prima la dottoressa Santoro non una puntualità di dati ma un approccio sistematico che permette una registrazione in continuo dei dati. Il secondo step è lo step ricorsivo in cui il monitoraggio da remoto che fornisce una base dati, l'analisi della base dati e l'individuazione di criticità e di tutte quelle che sono le azioni implementative per la riduzione di queste criticità porta alla verifica dell'efficacia di tutto il processo e quindi un audit in cui si certificano gli step eseguiti e i risultati ottenuti ricordandosi e ridefinendo quelli che sono poi gli obiettivi di mantenimento. Quindi il ciclo si chiude riniziando con un monitoraggio da remoto sempre nell'ottica continua e il ripetersi, il reiterarsi del protocollo a ciclo. In ultimo parlo di un tema a me caro che è il protocollo o meglio i protocolli di gestione di legionella. In questo caso presento il protocollo, uno dei primi, anzi il primo protocollo in Italia che è il protocollo Legionella Free che come vedete dalla slide segue quello che è un ciclo di damming, quindi un approccio, una verifica iniziale, quindi un assessment per procedere con una pianificazione delle attività da svolgere, un plan che sono gli step e le implementazioni da eseguire. L'applicazione del protocollo vero e proprio, quindi di tutte quelle misure correttive e preventive necessarie a minimizzare l'esposizione al rischio, una fase di check, quindi una verifica ambientale e un controllo dell'applicazione delle manutenzioni, delle altre attività precedentemente illustrate e l'emissione di una certificazione, quindi un marchio che certifica che il protocollo è stato applicato ed è stato applicato con successo. Ecco questo è un po' il fiore all'occhiello di questa tipologia di protocolli in cui c'è un'emissione, quindi l'assunzione anche di una responsabilità da parte di un ente terzo della certificazione del risultato. Il ciclo, come per i precedenti protocolli, non si esaurisce qui perché appunto ci sono, deve essere la definizione dei nuovi obiettivi e del mantenimento e si entra quindi anche in questo caso in un'ottica di circolarità. Porto un esempio rapido per far capire come questo sia applicabile in concreto e quindi un protocollo di gestione della qualità dell'aria in cui sono stati monitorati vari parametri del tempo come le polveri e l'andamento della CO2. Pongo l'attenzione in questo caso sulla linea verde in cui si è presa in considerazione una sala riunioni e si vede come ci sia un picco nel momento di massima aggregazione all'interno della sala riunioni che supera, diciamo, quelli che sono i valori normalmente accettati l'andamento del rumore e in ultimo l'andamento della temperatura. Tutti i parametri di tipo chimico-fisico perché ad oggi il monitoraggio in continuo è possibile solamente per questi parametri perché non abbiamo attualmente riconosciuti degli strumenti di misurazione in continua delle sonde che ci permettono la verifica dei parametri microbiologici e porta ad ultimo la temperatura perché pur essendo uno dei parametri più monitorati in questo caso si è evidenziato come ci fossero delle difficoltà di gestione un po' perché il profilo della temperatura interna ed esterna era similare e un po' perché c'era appunto una situazione di ultra riscaldamento se così vogliamo definirla anche in giornate che non erano considerate lavorativi. Perché lo porto questo esempio per dire che al di là della gestione del rischio biologico questi protocolli spesso evidenziano miglioramenti gestionali anche in altri ambiti in questo caso sotto il profilo energetico. Per quanto riguarda la microbiologia in questo caso specifico si sono utilizzati dei campionamenti puntuali e si è vista comunque una correlazione di qualche tipo con gli altri parametri di cui avevamo invece un monitoraggio in continuo. Quali sono i vantaggi e quali sono gli aspetti comuni di tutti questi protocolli? Beh innanzitutto rispondono alle norme vigenti quindi al decreto legislativo 81 e al decreto sulla potabilità il 31 del 2001 già citato dalla dottoressa Sasdelli e le linee guida nazionali e regionali sull'area sovellosi e le linee guida internazionali quindi le best practice a livello europeo qui cito le PSI e le EDI. Sono inoltre protocolli che si integrano con altre certificazioni in quali per esempio la BRIM, la LEAD ma anche la certificazione WELL Health and Safety Rating. Quindi diciamo permettono l'attuazione di questi protocolli permette anche poi un passaggio facilitato attraverso quelli che sono gli step di competenza quindi su queste tematiche per altre certificazioni. Inoltre ricordo la ISO 45000 sulla sicurezza, la ISO 13843 per quanto riguarda l'acqua, la 11731 per legionella e la 16040 per quanto riguarda la qualità dell'aria in ambienti indori. Quindi questo è un altro punto di forza dell'attuazione dei protocolli che rispondono ed entrano in quello che è una sorta di puzzle che si va componendo sulle varie certificazioni. Vorrei concludere con delle domande che sono di natura provocatoria quindi vogliono andare a toccare forse alcuni tasti dolenti o comunque su cui attualmente ci si sta molto interrogando. La prima riflessione, la prima provocazione è possibile definire un tasso occupazionale di un edificio in base a parametri chimico-fisici e non in base agli utenti per unità di superficie. L'abbiamo visto prima e già ne ha parlato anche la dottoressa Santoro e indubbiamente la CO2 è un parametro di affollamento per quanto riguarda un ambiente indoor. È possibile una certificazione della qualità dell'aria in ambienti indoor che può essere la chiave per una riattatura mirata? Questa è un'altra provocazione perché attualmente non è disponibile ma ragionamenti o comunque interrogarsi su quella che può essere un miglioramento della qualità dell'aria e quindi arrivare a una certificazione che mi permetta di garantire che la qualità dell'aria di un ambiente indoor è se non migliore almeno paragonabile all'outdoor può ovviamente porci degli interrogativi sull'attuale gestione della pandemia. Quindi chiederci se ci possono essere dei differenti approcci per quanto riguarda la gestione Covid-19. Le ultime due provocazioni sono per quanto riguarda lo stabilire una correlazione tra parametri chimico-fisici e biologici. È questo possibile? E nel caso in cui non fosse possibile o di difficile attuazione esiste un'interdipendenza tra i parametri ambientali chimico-fisici e biologici che ad oggi è possibile monitorare in continuo a meno a livello semi-quantitativo o addirittura qualitativo per quanto riguarda la microbiologia che invece oggi è campionabile solamente in situ per metodi più classici. Su questo lancio una riflessione che è il Biological IAP Index che la Germania sta attualmente utilizzando e che forse in maniera anche un po' troppo spinta ma mette comunque in correlazione quelli che sono parametri micro-odimatici di tipo fisico con una sorta di indice di sporcamento biologico di un ambiente indoor. Ecco, questi sono interrogativi che secondo me possono essere di stimolo e sicuramente provocazioni che alla luce della rilevanza che ha avuto la gestione della pandemia e quindi del rischio biologico attualmente sono secondo me assolutamente di rilevanza. Vi ringrazio dell'attenzione e ripasso la palla al presidente di IAS per credo la conclusione dei lavori. Grazie a tutti. Grazie Busico grazie a tutti i relatori per queste interessantissime presentazioni se ci sono delle domande do la parola a Lorenzo se ha raccolto delle domande se no alcune domande puoi... Sì, allora... Un attimo che... Allora, c'è una domanda che è stata posta adesso... La domanda che è stata posta la leggo direttamente è per la professoressa Santoro diceva a Bergamo in febbraio scorso dicevano di non aprire le finestre come si può vivere consumando sempre la stessa aria? Questo è un tema di estremo interesse nel senso che già qualche anno fa quando a causa dell'inquinamento atmosferico in alcuni comuni d'Italia si invitavano gli abitanti a rimanere chiusi in casa e non aprire le finestre si era pronunciato il CNR scongiurando che questo non succedesse Allora, l'inquinamento indoor soltanto in parte dipende da quello che viene dall'esterno è considerato che... Si considera che l'inquinamento nei luoghi chiusi possa essere fino a 5 volte maggiore dell'inquinamento atmosferico e soprattutto solo il 10% dell'inquinamento esterno di fatto viene respirato all'interno L'ottimo sarebbe portare comunque dell'aria fresca dall'esterno ma filtrata Quando questo non è possibile comunque le finestre vanno aperte nei momenti meno critici magari con l'esposizione meno critica se abbiamo un'esposizione verso un incrocio con un semaforo e una verso il cortile è meglio aprire le finestre dalla parte del cortile ma le finestre devono assolutamente essere sempre aperte Grazie Antonella su questo confermo anche per esperienze di misure eseguite proprio all'interno di una realtà del terziario che aveva avuto una problematica relativa a un presunto inquinamento legato al fatto che la realtà era vicino molto vicino a un aeroporto e c'era il dubbio da parte di alcuni dipendenti sul fatto che la qualità dell'aria potesse essere inquinata da presunti sostanze legate agli aeroplani che all'epoca andavano e venivano adesso sono tutti fermi purtroppo però all'epoca andavano e venivano quindi si presupponeva che ci potesse essere una sorta di inquinamento dell'aria è stato fatto uno studio abbiamo fatto uno studio utilizzando tra l'altro degli strumenti di misura appunto sia puntuali sia in continuo e abbiamo visto esattamente quello che tu hai detto cioè che intanto la qualità dell'aria all'esterno era comunque molto buona non c'era nessun tipo di reale presenza di inquinante anche perché la distanza era relativamente molto piccola parliamo di alcune centinaia di metri e quindi dal punto di vista dell'impatto sul rumore ad esempio gli aeroplani sicuramente facevano un discreto rumore però questa struttura era una struttura di quelle moderne con un buon sistema di trattamento dell'aria la qualità dell'aria era all'interno dell'edificio fuori era buona dentro era praticamente ottima diciamo misurata in termini di CO2, CO e quant'altro e quindi un buon sistema di ricambio aria un buon sistema di filtrazione è sicuramente una garanzia all'interno di un edificio diciamo chiuso per garantire la qualità dell'aria quindi chiaro che se non abbiamo un sistema di trattamento aria come spesso capita nelle case diciamo è assolutamente indicato l'apertura delle finestre insomma la vecchia sana abitudine che c'era una volta di aprire le finestre alla mattina per ricambiare l'aria dopo che si era dormito nelle stanze è assolutamente una caratteristica da considerare da prendere in considerazione gli strumenti di misura ci confermano questo effetto quello che tu hai indicato ad esempio sull'inquinamento da VOC legato all'utilizzo di un disinfettante è una cosa che capita tutti i giorni tutte le volte che vengono fatte delle pulizie per cui è necessario usare delle sostanze che comunque rilasciano nell'aria in parte evaporano e rilasciano nell'aria delle sostanze che non sono di per sé estremamente pericolose diciamo non danno dei grandi problemi però è meglio avere la qualità dell'aria diciamo per avere una buona qualità dell'aria è sicuramente necessario il ricambio d'aria questo è assolutamente Vero, grazie Lorenzo c'era un'altra domanda? Altre domande non ce ne sono Volevo a questo punto diciamo chiedere porre una domanda su un aspetto di cui si è accennato prima se ci sono al momento quindi indicazioni o strumenti che permettano in qualche modo una misura diretta della presenza di agenti biologici è una domanda diciamo che non so se chi dei tre relatori quale dei tre relatori può risponderci immagino che la nostra dottoressa Sasdelli e la dottoressa Santoro ci possono forse dare delle indicazioni su questo Elena non vedo più l'Elena Antonella se vuoi rispondere tu se hai se sei a conoscenza io avrei preferito rispondere se la la dottoressa per competenza allora tu conosci la parte di sensoristica probabilmente sì allora diciamo che è un tema abbastanza insomma abbastanza dibattuto in questo momento per quanto riguarda la parte biologica la sensoristica non esiste quindi bisogna fare affidamento ad analisi tradizionali e affidarsi ai laboratori competenti e di questo non c'è non c'è storia rispetto invece al trattamento dell'inquinamento biologico io mi sento di dire che vanno tenute qualsiasi tecnologia si decida di utilizzare vanno tenute sotto controllo i residui dei principi attivi che si usi allora diciamo che in linea generale è meglio seguire le indicazioni degli istituti competenti quindi verificare che si utilizzano le tecnologie che sono riconosciute come valide e quando si utilizzano quelle tecnologie non sono tantissime perché le tecnologie disponibili sul mercato sono sicuramente molte di più di quelle che poi vengono suggerite vengono vengono indicate e qualsiasi tecnologia si utilizza fare attenzione ai residui perché i residui possono essere più dannosi dell'agente biologico che si vuole che si vuole sconfiggere ecco mi sento di mi sento di dire questo quindi prestare attenzione c'è una domanda proprio posta da Pietro dice in commercio ci sono prodotti che si dichiarano efficaci per la riduzione della carica microbica virus compresi attraverso la formazione di superossidi e radicali ossidrilici chiede se qualcuno ha esperienze in merito c'è qualcuno dei relatori che vuole rispondere la mia risposta era stata data anche guardando un po' a questo poi lascio a Davide visto che si è candidato guardando anche un po' questa domanda allora l'Istituto Superiore di Sanità parla di soluzione alcolica e di ipoclorito di candeggina insomma questi sono i due agenti che vengono indicati dall'Istituto Superiore Superiore di Sanità quindi tutte le altre tecnologie insomma sono un po' da io non mi sento di poterle di poterle di potermi sostituire ai tecnici competenti per poter suggerire delle soluzioni però lascio a Davide visto che è intervenuto sì io non so se il riferimento è a sistemi di trattamento dell'area più per le superfici mi rifaccio al consiglio dato dalla dottoressa Santoro innanzitutto guardare se questi sistemi sono validati dagli istituti competenti ad oggi mi risulta che l'unico sistema validato è la filtrazione ok quindi parliamo di filtrazione meccanica carboniattivi con vari stati e tipologie di filtrazione ma una filtrazione di tipo meccanico riconosciuta dall'istituto superiore di sanità e soprattutto l'attenzione al fatto che l'istituto superiore di sanità ha pubblicato una guida in cui pone l'attenzione a quelli che possono essere i residui di una sanificazione l'abbiamo visto prima mi è sembrato di capire per una superficie diciamo nella presentazione della dottoressa Santoro questo è altrettanto valido per i sistemi di trattamento aria che sono per esempio collegati a sistemi di unità di trattamento aria canalizzati quindi assolutamente non incorrere incappare nel rischio che il trattamento per sconfiggere l'agente biologico in questo caso immagino si tratti di covid causi poi ulteriori complessazioni mi sposo anch'io diciamo la linea della dottoressa Santoro c'è un'altra domanda che dice esiste in Italia una specifica normativa di legge per il controllo della qualità dell'area negli ambienti di vita chiusi a questa posso rispondere anch'io no non esiste diciamo una specifica indicazione su diciamo dei livelli d'accordo delle soglie o quant'altro nella legge 81 e in tutte le linee guida si parla ovviamente del fatto che la qualità dell'aria deve essere è uno dei parametri che il datore di lavoro deve tenere presente per garantire il benessere la qualità dell'aria intesa a 360 gradi dall'aspetto fisico quindi temperatura umidità flussi dell'aria che non devono in qualche modo infastidire le persone che sono presenti negli ambienti dagli aspetti chimici quindi la presenza di inquinanti chimici e per gli aspetti biologici il problema fondamentale è che mentre per gli aspetti anche seppur è difficile comunque è una tematica di non semplice soluzione è possibile però definire negli aspetti fisici è possibile definire degli indicatori d'accordo degli indicatori perché non stiamo parlando evidentemente di condizioni estreme come può essere un ambiente di lavoro che so all'interno di una cella frigorifera per la movimentazione dei surgelati o quant'altro per cui abbiamo temperature bassissime e siamo in ambito quindi di necessità diciamo di lavorare in condizioni estreme o lavoro in fonderia per cui evidentemente abbiamo temperature altissime e quindi lì abbiamo la necessità dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale parliamo di ambienti diciamo di vita normale quindi la classica range di temperatura intorno ai 20 gradi ecco non è solo così semplice dire come alcuni dicono 20 più o meno 2 20 più o meno 2 può andar bene per un ambito diciamo di vita normale ma se io metto una condizione di attività fisica e di lavoro e quindi devo movimentare dei carichi ad esempio dovrò tenere presente del calore prodotto dal corpo e quindi la persona che svolge un'attività magari a di fianco invece la persona che è addetto all'inserimento dati nel computer ecco le due condizioni di lavoro delle due persone portano al fatto che le due persone vorrebbero avere una temperatura e un'umidità probabilmente differenti per cui nell'ambito solo degli aspetti fisici tanto per dire si parla di livello di accettabilità legato al fatto che il 90% delle persone presenti dicano si sentano bene per cui si dà per scontato che esiste una percentuale di persone che tra virgolette non si sentano bene perché la temperatura e l'umidità sono grandesse a cui tutti noi siamo sensibili in modo diverso quindi ci sono vari aspetti quindi anche l'abbigliamento evidentemente incide quindi già solo negli aspetti fisici che sono più semplici è molto difficile definire una norma che ti dica con esattezza e precisione si tratta di fare delle misure e di arrivare a una percentuale di persone soddisfatte sugli aspetti chimici esistono delle soglie legate evidentemente al fatto che non devono esistere determinati tipi di inquinanti assolutamente altre tipologie di sostanze come la CO2 e la CO sono sostanze che sono normalmente presenti diciamo e si tratta anche di definire delle soglie o dei livelli ottimali però non esiste una legge che definisca con precisione queste grandezze perché nel campo biologico siamo ancora siamo ancora oltre perché la misurazione dell'aspetto biologico è sicuramente molto più difficile le misurazioni come ci ha fatto vedere prima la dottoressa Sasdelli sono misurazioni che prevedono tra l'altro campionamenti campionamenti attivi passivi e questi campionamenti poi vanno portati in laboratorio i campioni vanno portati in laboratorio e spesso ci mettono dei giorni per ottenere un risultato quindi le condizioni dal momento che abbiamo la misura al momento che abbiamo fatto abbiamo prelevato il campione il momento che otteniamo il dato del campione sono passati giorni addirittura e quindi le condizioni sono completamente mutate quindi non esistono diciamo leggi specifiche esistono solo delle indicazioni parametro per parametro soprattutto sui livelli di soglia che sono accettabili o non accettabili c'è ancora qualche domanda che è arrivata prima c'era una allora c'è una domanda che dice ventilazione naturale versus ventilazione meccanica controllata chi vince? allora mi rispondo io se volete allora la ventilazione naturale è assolutamente praticata molti edifici sono a ventilazione naturale hanno presentano delle problematiche la prima problematica è il rumore perché tipicamente gli edifici a ventilazione naturale fanno entrare i rumori dall'esterno il problema è avere un approccio adeguato nel senso che quando si interviene su un edificio con ventilazione naturale bisogna tener conto di tutti gli aspetti e tutte le ricadute se per eliminare il rumore si installano degli infissi a tripla camera a sigillanti abbiamo compromesso la ventilazione naturale però abbiamo risolto il problema del rumore quindi se possibile ventilazione meccanica controllata perché è anche il modo migliore per attraverso i filtri meccanici purificare l'aria quindi controllare il flusso di ingresso e purificare l'aria ok c'è un'altra domanda sempre della dottoressa Santoro che è super gettonata è lo strumento NUVAP può sostituirsi ad un monitoraggio effettuato da un laboratorio certificato lo chiedo dal punto di vista legale in caso di ispezione da parte degli organi competenti allora noi abbiamo diverse esperienze in cui i nostri clienti hanno ricevuto l'indicazione di dover fare degli approfondimenti e hanno concordato con l'ASL delle procedure per monitorare alcuni parametri presentando l'utilizzo dello strumento della tecnologia di NUVAP che è stato accettato dall'ASL di riferimento quindi dipende di cosa stiamo parlando se vogliamo sostituire il monitoraggio del microclima con la tecnologia di NUVAP vi dico che non è possibile perché il microclima per esempio prevede l'assessment delle correnti d'aria che con la tecnologia di NUVAP non si può fare però se stiamo parlando di monitorare i vari inquinanti è una tecnologia che comunque insomma è una tecnologia che viene accompagnata da un certificato di calibrazione che viene rilasciato dal produttore quindi ci prendiamo la responsabilità diciamo di quello che dalla tecnologia traspare ammesso che la tecnologia venga utilizzata adeguatamente in questi casi la chiave non è tanto la tecnologia che si usa ma il professionista che poi deve rilasciare una consulenza su questi dati quindi non è tanto che tecnologia utilizzo ma chi è poi il tecnico che deve intervenire eventualmente sull'assessment e sulla risoluzione delle problematiche ok un'altra domanda che fanno avete già fatto un approfondimento sulle tinteggiature le pitture per le pareti legno e metalli relativamente alla pericolosità a componenti chimici allora il tema dei materiali è un tema ormai insomma consolidato le prime azioni che sono state messe in pista dalle istituzioni per migliorare la qualità dell'aria sono state quelle di rilasciare le certificazioni dei materiali quindi sul detergente preferire il detergente ecolabel sulle pitture preferire le pitture certificate perché tutti i prodotti controllati automaticamente già da tanti anni devono aderire alle indicazioni sul contenuto di materiale di sostanze che sono tossiche quindi esiste già una norma sul materiale che consente di risolvere questa problematica è chiaro che quando poi si mescolano le sostanze ci si può trovare di fronte a delle situazioni che non sono certificabili una tipologia di cartongesso con una tipologia di vernice particolare può dare un risultato che è inatteso però in generale sono casi veramente sporadici in generale se si utilizzano materiali certificati come dovrebbero essere tutti questi problemi sono assolutamente mitigati ok direi che le domande sono finite io non ne vedo più siamo già alle 18.10 direi siamo arrivati a 150 persone partecipanti ci sono ancora 130 persone quindi direi che appunto è andato molto bene come attività diciamo grazie della pazienza a tutti Lorenzo se ci ricordi i prossimi webinar assolutamente allora i prossimi webinar ce ne sarà uno il 23 di marzo che sarà sempre vogliamo parlare sempre di qualità dell'aria con una nostra azienda che collabora con il nostro nuovo socio diciamo corporate che è entrato con noi che è Alisea che è la gestione del rischio derivante dagli impianti di trattamento aria poi c'è il 25 un'attività con il magistrato Raffaele Guariniello dove parleremo di obbligo vaccinale in azienda abbiamo già parlato a inizio febbraio e ne riparleremo adesso sempre con una persona di assoluto livello e poi volevo indicare anche il 17 di marzo c'è invece un evento fatto dalla sede territoriale della Puglia che è Terre e Rocce da Scavo norme di legge e linee della guida SNPA sono tutte tre attività diverse ma tutte attività molto molto interessanti per i nostri associati e per chi è interessato a partecipare su questo aggiungo un nuovo corso che è stato realizzato da IS Academy e al quale partecipo anch'io come relatore sulla tematica proprio dell'obbligo vaccinale in questo momento oltre ai seminari diciamo di introduzione su questo argomento IS Academy tiene un corso che si imposta proprio su un corso di otto ore diciamo che imposta proprio l'approccio dell'obbligo vaccinale spiegando diciamo va bene un'introduzione sul rischio biologico un'introduzione di alcun paio d'ore su come che cosa sono i vaccini le varie tipologie di viaggie di vaccini e come funzionano dopodichè ci sono due ore tenute dagli esperti giuristi su capire se esiste o meno l'obbligo vaccinale e per ultimo un approccio di un nostro socio che è esperto anche nell'aspetto della gestione del rischio dal punto di vista comportamentale che suggerisce una metodologia per le aziende che vogliono affrontare anche la presenza diciamo così di personale che per qualche ragione è ostile ai vaccini e quindi capire quali sono davvero gli obblighi del datore di lavoro che rischi si corre e quant'altro diciamo legato appunto all'utilizzo o meno di vaccini proprio in questo periodo legato al covid quindi trovate tutte le indicazioni su IAS Academy credo che sia un approfondimento che per molti responsabili che debbono decidere se e come diciamo andare in una direzione di forzare o meno la mano su questa tematica credo che fra qualche mese sarà assolutamente una tematica di grande interesse bene ringrazio quindi a nome di IAS tutti i presenti i relatori l'organizzazione sempre ottimo Lorenzo Manganiello che ci fa che ormai da un anno a questa parte si organizza e collabora all'organizzare questi webinar che sembra almeno dal pubblico che siano sempre abbastanza graditi e saluto tutti Lorenzo se c'è qualche altro punto che vuoi segnalare dal punto di vista organizzativo se no salutiamo la dottoressa direi appunto queste sono le prossime attività le trovate sul sito di IAS nella sezione eventi e poi manderemo nei prossimi giorni una mail ovviamente riepilogativa di tutte le attività per quanto riguarda il resto per chi ha un problema comunque può contattare sempre la segreteria di IAS noi siamo a disposizione bene grazie di nuovo allora ai relatori e grazie a tutti quelli che hanno assistito e nuovamente considerate la possibilità di associarvi alla nostra associazione per continuare anche a contribuire direttamente e anche per partecipare al gruppo di lavoro proprio il gruppo di lavoro tecnico sulla qualità dell'aria arrivederci a tutti buona serata arrivederci grazie a tutti